oh my god bella moddari sono rap e benvenuti in questo nuovo spotlight dove vi parlo della golden egg questa mod aggiunge un uovo d'oro in minecraft che potrete trovare tramite diciamo droppandolo dalle galline poi una volta droppato questo uovo basterà lanciarlo a terra con il tasto destro e vi dropperà degli item che possono essere sia importanti che item facili da trovare ad esempio ora lancio molte volte e vi faccio vedere cosa droppo comunque prima ho droppato ad esempio un diamante, diversi picconi di diamante poi ho droppato anche le patate un piccone d'oro un'ascia di ferro e guardate comunque sono comunque cose importanti e anche ora ho droppato cose importanti come ad esempio quattro diamanti e altri smeraldi poi questa mod aggiunge anche questa spada che la potete trovare comunque uccidendo i vari mob ad esempio uccidendo i zombie vi dropperanno questa spada ma è molto rara quindi è molto rara spero che questa mod vi piaccia e spero che anche il video vi sia piaciuto scusate se è durato poco ma non c'è tanto da spiegare su questa mod quindi ci vediamo al prossimo video mettete mi piace commentate iscrivetevi e consigliatemi qualche mod nei commenti bella ciao ciao ciao